A Casa del Popolo di Campobasso inaugura la stagione di eventi, incontri, iniziative 2019-2020 nella sede di Via Gioberti. Oggi alle 21 l'apertura con la festa People Have Solidarity, iniziativa di solidarietà, socialità e divertimento. Sì, questa sera riaprono le attività di Casa del Popolo dopo un anno che ci ha visto molto impegnati in tutti i settori di intervento. Stasera iniziamo con una festa sociale popolare di solidarietà, stasera ci saranno una serie di DJ set che si alterneranno a mettere musica, ci sarà un buffet solidale, ci sarà l'occasione per stare insieme e passare qualche ora di socialità per parlare, divertirsi e per preparare al meglio le attività dei prossimi mesi. È solo l'inizio dunque di una stagione con tanti altri eventi di approfondimento, riflessione e convivialità. Ripartiremo nelle prossime settimane con tutte le attività previste, dagli sportelli di attività sociale, tipo il doposcuola popolare, l'ufficio legale, il corso di italiano per stranieri, ripartiranno i seminari di storia politica e sociali con i corsi dal 68 all'autunno caldo tenuti dal professor Giovanni Cerchia, ci saranno seminari sul clima e sul debito pubblico, ci saranno attività sociali ogni venerdì che saranno presentazioni di libri, attività culturali e politiche. Insomma, saremo lì a dimostrare che Casa del Popolo oggi dimostra un elemento importante anche in questa città, che insieme si può fare cultura, socialità e solidarietà. E soprattutto questi sono gli elementi per noi fondamentali per rompere con quella gabbia di paura che oggi regna nel paese e questa paura molte volte provoca senofobia e razzismo e aprono le porte ai fascismi.